Ciao a tutti dormiglioni, come va? Spero bene. Piccola introduzione in whispering per raccontarvi cosa farò quest'oggi. Siccome in tantissimi mi avete detto che vi è piaciuto l'inaudible che ho fatto qualche settimana fa, ho deciso di farne un altro con la lettura di qualche pagina del libro di Rovalda Matilde. Sicuramente tutti voi avrete visto il film Atleta Semitica e questo libro è il libro da cui ho tratto il film, nonché il musical che ho visto a Londra, bellissimo. E quindi cominciamo subito l'inaudible con la lettura. Aprirò a caso, tanto insomma non si dovrebbe capire nulla, quindi una pagina vale l'altra. Mi sono tanto interrompiato. Mi sono tanto interrompiato, qualcosa che non avevo messo, che sono vicino a farlo succedere. A farlo succedere, come volete, ho fatto una macchia per la macchiera. Devo non capire, ma di ammettere per la macchia mia. Ma quando sono stato io, con lo sguardo, ho portato la macchiera, e si ritrava con tutte le mie porte la macchiera vicenda. E poi, i miei occhi sono diventati a farlo, e caldissimi. E' riuscito a rostrompere, e perché è il vero e c'è il vero e c'è il vero e c'è il vero e c'è il vero. E' un vero e c'è il vero e c'è il vero e c'è il vero e c'è il vero. L'ho fatto davvero, signorina, le destini dei bambini sono davvero incredibili per la signorina Gemmella. Non è che se scrivere la questione è molto più gentile. Potresti farlo? Credo di sì, non so. La signorina Gemmella, sposti, lasciate le bianchiere o il ruoto, è come il sangetto della filomania. Devo riempire l'acqua, chi ve con lo sorriso. Non credo che mi importanza non mi sapete. Va bene allora, si scusa, rovesciano. Forse ci vorrà un po' di tempo. E' lo tempo che vuoi. Sono fredda. Sono come Matilde, se non è la condizione, cercando di permettere da essere appoggiati come ci sono poco, è possibile il suo lavoro. Questa volta ti partì immediatamente l'orgio. Piccino, rovesciano, rovesciati. Orgino, Matilde, muovere l'albero. Le mi dover chiedere, queste parole di sé. Poi, secolo completamente. E' come se non è l'intervento, è l'alzo dell'alzo 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 dell'alzo. Di nuovo, ma più fredda. Per le pietre accumulazioni, le pietre diventavano più calde. Poi, migliori che invisibile. Piccolissimi braccia. Si proiettarono verso il pietre. Invece dei, senza mettere il minimo suono, continuavano ad andare al piccino. Il vino è l'alto, Update. Il domini è l'alzo dell'alzo. È il mio proiettario da un pietre. I ci sono sempre sui incontri. E capite sul piano di una soglia. A pieno di 30 cm. Le briepi il conserno della scena la maestra pari con la bocca, con il pari di occhi, senza dire una parola, non facendo il resto, non ci sarebbe riuscito il miracolo è l'arma profondamente scusa, guarda un bicchiere, come se fosse in qualche modo pericoloso poi, andare da vita insomma diventa, la bambina è il patinista, c'è un mondo, e per la mente sono l'attivazione senza vedere, tutto subito, appareva diverso, gli occhi erano lucidi, mentre se ne stava lì, senza parlare, appareva bellissima la signorina Gimillette aspettava, anche lei un po' drammante, guardando ma ditte che si riprendeva lentamente al tratto, invece tutta una bambina ripresa di colpo, una litica di masacifica stupenda, 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 davvero, non deve spaventarsi signorina sembravi così lontana, sussurro la maestra, scomenta, sì, ero lontana, volavo per le stelle, con una litacione è meraviglioso la signorina Gimillette, io ho guardato, come si è molestata l'almo di migrazione è il primo motivo di nuovo che diceva al mondo, questa volta è un risultato di somma dirte a voi non è possibile, ma per il maestro lo scoprire, è il tipico, e che se gli occhi per un istante quando il dia apri, sembrava di aver ripreso il controllo di sé ti piacerebbe venire a riprendere la famiglia? sì, mi piacerebbe moltissimo bene, raccogliete le cose e vediamoci fuori tra un paese di me non racconterò nessuno di questo, di quello che ho fatto, vero, signorina Faccumile? e anche per sogno la maestra erano le patite, prima, il cancello della seconda, e se canno, è lungo la via principale passarono la dinamica e il diventolo, pieno di mele e di arance, quella del macellare dove si trusse i pezzi di carne e sanguinoletta, facevano compagnia, poi gli smeltati Poi, oltre postarono la banca, il rincontro di alimentari, il governo delle destra, e infine, volarono dall'altro lato del paese, su una stretta strada di campagna, dove passava solo qualche rara automobile. Adesso che erano sole, le tette diventavano un tratto molto illace, come se il proprio sapertore di una valvola avesse scatenato nel suo corpo un misterioso flusso di energia. Trovate anche una signora che non c'è lì, tentando, aiutando i nori, e chiacchialando per la velocità, come un luogo d'artificio. Signorina di qua, signorina di là, signorina credo che potrei fare qualunque cosa, e non solo rilasciare i bicchieri, potrei anche rilasciare i tavoli e le sedi, perfino la gente seduta sopra, e cose ancora più grandi. Se mi concentro un po', il mio occhio mando la un po', il mio occhio è incredibile, e posso dirigerla verso dove voglio. Devo passare qualcosa, intensamente, signorina, nel po', i miei occhi è una cosa, diventano grandi, quasi crocianti, ma non mi fanno male. E poi, signorina, calmati, calmati, diventare la signorina di là, non devi sentarti così. Siamo soltanto all'inizio. signorina. Ma non le sembra una cosa interessante, signorina? Sì, molto interessante, interessantissima, ma dobbiamo darci bisogno di un valente. È perché signorina? Perché stiamo giocando con forti misteriose, di cui non sappiamo nulla. Non sono forti negative, anzi, si credo di essere buone, ma dobbiamo essere caute. È una parola davvero sagge, però Matilde è la trucco citata per pensarla così. Non capisco perché dobbiamo essere tanto prudenti. Sto cercando di farti capire, disse un paziente, una signorina, ma gemiele, che abbiamo a che fare con un mondo sconosciuto. Si tratta di una cosa impossibile da spiegare. La parola giusta sarebbe fenomeno. Sì, è proprio fenomeno. Io sono un fenomeno, chiesa una teglia. È anche possibile che me lo sia, ma preferirei che non ti considerassi qualcosa di speciale per il momento. Pensavo che noi potremmo esplorare un minuto po' questo fenomeno, ma con brillenza. Allora devo preparare ancora signorina. Siamo un po' proprio per la gemella. E se la si è fredda, non ci viene con cautela. Evviva, disse Matilde. Sono ancora molto confusa, a dire il vero, e sto cercando di trovare una vita terminologica. Per esempio, per esempio, credo che tutto questo abbia a che fare con la tua precocetà. Che cosa vuol dire precocetà? Un bambino è precoce quando si dimostra molto intelligente, sin da piccolissimo. Tu sei un bambino veramente precoce. Certo, non sei tu. Per siccome legge, ho imparato la matematica, non è proprio quello che volevo dire. Non è proprio quello che volevo dire se sono scena, la prima cosa sarebbe presenti. Non è dimenticato quella strana espressione sul tuo posto, dopo che ero lasciato un bicchiere per la seconda volta. Crede che possa farmi male. Ti senti una strana? Non è bello? Mi sentivo benissimo, mi sembra di vita. Per un momento, ho una donna di esterni, ti faccio al dentro. E poi, signorina, la seconda volta è stata un mondo più migliore. Non è che, come tutte le cose, il più che si andava aiutato, il più si diventa bravo. La signorina della cimina camminava lentamente, in modo che la bambina non fosse costretta ancora per starle indietro. C'era una gran pace con quella scelta di campagna. Era un pomeriggio di soda. Le sibi erano carri di mora, giornate e bianche macchie di vita alba. Le macchie scarlate del bianco spino erano una simatura, pronte a noire le lucienne durante l'inverno. La stradina era costeggiata al primo busto, la squercia, cantagni, platani e prassini. La signorina della cimina, che non vogliono insegnarle l'argomento tra le foglie e l'antipo di corrige. Battiente ascoltava un bianche macchie scarlate del bianche macchie scarlate. Alla fine, a un punto con l'aria per l'interno della cimina, accaccia il letto. Da questa porta, in un'altra cimina, in un'altra cimina, in un'altra cimina, in un'altra cimina, facendoci una madilla. Si camminavano per un settimino, segnando da soli profondi e chiuso, dato sia per i ragioni pieni di fronte maturi. Per questa sera, finiamo qui. Magari proseguiremo più avanti. Spero che sia stato un buon in Audible. Sapete sempre che ho qualche dubbio su come farli correttamente. Quindi, incrociamo le dita. Ci vediamo nei prossimi giorni. Buon proseguimento. Buonanotte. Ciao.